Con il 99,3% di dosi somministrate, la Puglia è attualmente la prima regione in Italia per numero di vaccini effettuati rispetto a quelli disponibili. Un primato confermato dal Ministero della Salute che attraverso il sito internet istituzionale segnala che da quando è partita la campagna nazionale a fine dicembre sono stati vaccinati 424.806 pugliesi a fronte di 428.000 dosi consegnate. Quasi completate le vaccinazioni degli operatori sanitari sono infatti oltre 185.000 quelli che hanno effettuato il vaccino e lo stesso vale per gli anziani ospiti delle case di riposo vaccinati nell'ordine delle 22.000 persone. La macchina organizzativa va un po' più a rilento invece per le altre categorie per le quali la campagna è cominciata però più tardi. Gli ultraottantenni vaccinati sono più di 94.000 di 207.000 presenti sul territorio regionale. A questi vanno aggiunti gli oltre 75.000 lavoratori del mondo della scuola e quasi 37.000 impiegati amministrativi in servizio presso le strutture sanitarie. Molto più indietro i rappresentanti delle forze armate con circa 12.400 somministrazioni. Intanto il piano vaccinale è pronto ad allargarsi a nuove categorie. È ormai tutto pronto, scorte permettendo, per l'inizio delle inoculazioni destinate a over 70 e over 60. La regione ha infatti pubblicato un calendario con le date utili per l'avvio delle prenotazioni di questi soggetti. Si comincia a fine marzo con i pugliesi che hanno tra i 79 e i 70 anni per arrivare a fine aprire con la fascia 69-60 anni. Per quanto riguarda gli ultraottantenni, quelli con un alto livello di vulnerabilità o con disabilità grave, la vaccinazione è già stata programmata di intesa con i medici di base e i pediatri di libera scelta. Per queste categorie non è necessaria la prenotazione perché saranno contattate direttamente dal loro medico curante. Il piano regionale prevede la possibilità di vaccinare anche i familiari conviventi o coloro che si prendono cura di disabili gravi e soggetti con un alto livello di vulnerabilità che potranno ricevere il vaccino assieme alla persona curata.